Questa volta non era mai sbagliato, non sapeva di noi. Quando è che giocava con vesti, non è che... Ma è che un parchiere va a giocare, un parchiere va e dice che fa più famiglia. E' un fratello una sera che ha lavorato a 20 minuti. E' un parchiere pesato, non è che... No, è buono, non è che ti giocava a giocare. Perchè, perchè l'inserere già fa bene, è pure bene cappone. No, 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 no. Paolo? No, paolo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.